della doppia figura, quindi capisco che tua sorella avesse, però tu non lo nominavi nei discorsi, per questo mi sono un attimo incuriosito, quindi la tua educazione è tua madre? Sì, una famiglia di donne, matriarcale proprio. Molto matriarcale, due femmine, mamma, nonna, io e una sorella più piccola. Sì, una famiglia molto, tu hai avuto come prima una figlia femmina? Sì.